Mancano poco più di 48 ore alla scadenza per la presentazione della candidatura. Il Movimento 5 Stelle oggi rimane l'unico partito della coalizione a non avere ancora ufficializzato un nome per le primarie del centro-sinistra. In ballo c'è la poltrona da candidato governatore alle regionali siciliane di novembre. I grillini temporeggiano, ma c'è da decidere e anche alla svelta. Tra i nomi che circolano c'è sempre quello di Giancarlo Cancelleri. Sul sottosegretario dei trasporti però pende ancora il vincolo che vieta il terzo mandato, argomento diventato ancora più sensibile dopo la scissione di Luigi Di Maio. Un'aderoga alla regola in questo momento non pare essere buon vista di buon occhio da Giuseppe Conte. Il risultato è che a due giorni dall'ultima data possibile per presentare le candidature manca ancora un nome dei 5 Stelle. Tra i papabili candidati c'è anche il gelese Nuccio Di Paola, che proprio pochi giorni fa ha incontrato gli attivisti in un luogo simbolo per i grillini siciliani, il cortile della Biblioteca Scarabelli a Caltanissetta, lì dove i 5 Stelle si riunirono nel 2012 e decisero di formare la prima lista per le regionali. Poche le indicazioni ma sembra che tutto si giochi in una corsa a tre proprio tra cancelleri, il parlamentare regionale Luigi Sunseri e lo stesso Di Paola. C'è tempo fino al 30 giugno alle ore 23.59. Noi abbiamo sempre detto che stiamo facendo qui in Sicilia qualcosa che non si è mai fatto in altre regioni. Stiamo dando la possibilità ai siciliani, dai 16 anni in su, di poter scegliere entro il 23 luglio, perché poi si voterà il 23 luglio con una registrazione, io la voglio ricordare sul sito www.presidenziali22.it, dai 16 anni in su i cittadini siciliani possono scegliere il loro candidato del campo progressista. Il Movimento 5 Stelle ha delle disponibilità, ci sono persone che hanno dato delle disponibilità, si stanno valutando anche altre figure che possono essere anche esterne al Movimento 5 Stelle, quindi profili alti della società e dico poi sarà Giuseppe Conte insieme a tutto il Movimento 5 Stelle a fare un percorso. Noi siamo un grande movimento, siamo in tanti e quindi è giusto che ci sia un confronto e ci prendiamo queste altre 48 ore per cercare di decidere. Per scegliere il candidato del centro-sinistra si voterà il 23 luglio tramite app N32 Gazebo che saranno allestiti nelle 5 province più popolose della Sicilia. Già pronto pure il sito per iscriversi alla votazione presidenziali22.it. Potranno votare i 16 anni e residenti in Sicilia ma fuori sede. Pronti anche due dei tre candidati. In campo già da mesi c'è Claudio Favalo, ormai ex presidente della Commissione Siciliana Antimafia, che sta girando la Sicilia ormai dall'inverno scorso. Da pochissimo invece il Partito Democratico ha ufficializzato la sua scelta ricaduta su Caterina Chinnici, magistrata, figlia di Rocco Chinnici, il giudice che diede vita al pool antimafia a Palermo ucciso nel 1983. La magistrata è considerata in grado di attrarre nella coalizione di centro-sinistra anche gli autonomisti che fanno capo al Lombardo, garantendo così alla coalizione un campo più largo. Adesso mancano solo i grillini. Entro 48 ore il candidato arriverà? Assolutamente sì. Entro il 30 giugno alle 23.59. Credo che domani, tra l'altro, sarà un giorno fondamentale. Il giorno fondamentale sarà anche oggi. Però dico noi, entro il 30 giugno presenteremo il nostro candidato ufficiale all'interno del campo progressista. E permettetemi di dire, se in questo momento tutti stanno aspettando il candidato del Movimento 5 Stelle, vuol dire che in molti sono consapevoli che il Movimento 5 Stelle all'interno del campo progressista è la forza motrice.